Siamo in diretta, siamo in diretta. Allora, Davide. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Ciao, lui è Davide. L'ho fermato subito. Ma non c'è solo Davide? Ma scusami, chi c'è? Ah, è vero, è vero. Ciao Marco, ciao Marco. Ciao, ciao. Quanto tempo? Non ci conosciamo, sì, ci conosciamo. Vogliamo dirla tutta. Continuiamo a fermare donne, a stappunto fermiamo anche degli uomini. E dai degli uomini, dai degli ometti. Cara, mi ci piace. Havamo fatto uno spot della madonna, ma cara, mi ci piace. Allora, la verità è che noi volevamo, lui è un fotografo eccezionale, senti su Facebook, sulla sua pagina, fa delle foto, sta ovviamente. No, è vero, è vero. Dove dobbiamo andare? Su Facebook? La pagina? Davide? Davio. Davide Davio. Davide Davio. Davide Davio. E soprattutto, oltre che fargli vicissà alla sua pagina Facebook, io ti proporrei di prendere il posto di regista di Ciapparo, perché non ne possiamo più dire. Non ne possiamo più, è vero. Finalmente. Io sono in minoranza, però devo dire che siamo in buona compagnia. Sono in ottima compagnia. Roberto, ti difendo io. Prendendo l'arrivia c'è la possibilità di stare con l'aiuto. Mi sacrifico, mi sacrifico, mi sacrifico. Passiamo alle cose serie, fagli un'intervista seria su come è andata la serata. Marco, come è andata la serata? Bellissima serata. Ora meglio. Ora meglio. Vieni più vicino perché, purtroppo, con le mascherine non si sente molto. La riproporre, bella serata. Veramente, siete contenti dei giovedì tortonesi? Assolutamente, è un'ideona, è un'ideona. Voi avete la faccia di chi è andata a bere qualche boccettino di questo? No, 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 niente. Come Guido, abita qua a 100 metri. È un punto. No, siccome, non li vedo con le buste, ma avranno riempito. Le buste ce l'hanno le signore. Ah, ce l'hanno le signore. Le buste sono un'altra spazia, l'abbiamo. Grazie ragazzi, grazie di tutto. Grazie, ecco, allora andiamo sulla... Ricordiamoci che era sulla pagina Facebook di Davide Davio. Grazie, anche Instagram via. Ma anche volendo che era la sua, perché comunque è carina.